Musica Schianto in superstrada tra un'auto e un motoveicolo Ottantenne trasportato in elieambulanza al Torrette di Ancona Versione di greco al classico, funzioni allo scientifico, bilancio alle commerciali Oggi è stata la volta della seconda prova dell'esame di maturità Stop ai cambi di casacca in consiglio regionale Marta Ruggeri annuncia abbiamo approvato all'unanimità una modifica allo statuto Un nuovo parcheggio temporaneo per 450 veicoli A Torrette di Fano aperto a turisti e cittadini la nuova area sosta Che sorge a fianco del sottopasso ferroviario Una cena di raccolta fondi per l'Onfalos Autismo e Famiglie Sabato al Circolo Tennis Fano l'iniziativa organizzata dall'Associazione di Luca Lepri LL Oltre l'Ostacolo Quattro bande insieme per tre concerti ad ingresso libero Sabato 22 giugno la prima esibizione alla Rocca Mallatestiana di Fano Ben trovati cari telespettatori di Fano TV ad una nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia In primo piano l'incidente, il grave incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 10.50 lungo la superstrada Fano Grosseto all'altezza dello svincolo di Bellocchi A scontrarsi sono stati un'auto e un motoveicolo, una vespa di grossa cilindrata A causa del violento impatto per il Centauro, un ottantenne residente nel nostro territorio è stato necessario l'intervento dell'Elia Ambulanza che lo ha trasportato al Torrette di Ancona Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Urbino che oltre ai rilievi ha chiuso temporaneamente al traffico il tratto interessato dal sinistro È ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente Ed ora passiamo agli esami di maturità Archiviato il tema di italiano Adesso è stata la volta della seconda prova scritta focalizzata sulle materie specifiche di ciascun indirizzo di studio Oggi siamo andati nuovamente ad intervistare gli studenti per sapere com'è andata Oggi seconda prova, voi che scuola fate? Turistico, ho lì Che cosa è uscita? La programmazione di un evento e poi la seconda prova dovevamo scegliere due quesiti a scelta tra cui analisi SWOT Com'è andata? Una via di mezzo Era difficile Sì, però poteva andare peggio Come vi sentite adesso? Libere, un po' tristi, forse un po' demoralizzate, però libere quindi è un passo vicino alla fine Adesso via colorale? Sì, non ci voglio pensare Com'è andato l'esame? Dai, è normale, ho fatto tutto quello che devo fare quindi aspetto solo il risultato Che scuola fai? Linguistico Di cosa trattava l'argomento uscito? Era spagnolo quindi avevo delle comprensioni nel testo e poi produzione scritta Adesso io ho un altro esame perché faccio ESABAC quindi ho un altro scritto di storia e letteratura francese Che scuola fai? Liceo linguistico Nalfiapolloni Che lingua è uscita nella seconda prova? Spagnolo Com'è andata? Bene, bene, dai speriamo bene Era la terza lingua quindi in teoria era la più facile Ed erano due testi, è stato poco obbligato però dai speriamo bene Presto l'orale? Sì, lunedì E dopo gli esami che hai qualche sogno nel cassetto da realizzare? Vorrei entrare nella scienza della formazione per diventare maestra, speriamo in bene Ragazze che scuola fate? Le commerciali Oggi vedo uscire tutti un po' distrutti rispetto a ieri Eh sì perché comunque la prova di economia aziendale è sempre piuttosto rispetto al tema ovviamente Quante ore avete avuto a disposizione? Sei ore ieri e sei ore oggi E vedo che comunque quasi tutti le hanno utilizzate tutte perché stanno uscendo tutti adesso Era difficile? Sì, cioè sì se non studi e se non sai le cose economia aziendale è difficile a prescindere A voi com'è andata? Qualcosa siamo riusciti a fare, qualche punto ce lo daranno Poi dopo speriamo che col tema riusciamo a alzare Anche perché comunque sono uscite tracce abbastanza facili magari rispetto agli anni scorsi Quindi ieri al tema ci siamo trovate bene Per quanto riguarda invece la seconda prova vi aspettavate cose diverse? No, anzi ce l'aspettavamo un po' più difficile Era difficile ma ci aspettavamo peggio quindi in realtà è andata bene Hai avuto la prova di economia, com'è andata? È andata bene, sono soddisfatto e vediamo quali sono i risultati I tuoi compagni di scuola come si sentono? Vi sentite tutti più leggeri? Io sì, loro forse, però adesso stiamo bene, sono soddisfatti Premetto che sono appena uscite dalla prova di economia aziendale Raccontateci come avete vissuto, come state vivendo questa maturità? Malissimo, veramente male Io non vedo l'ora di andare al mare È stato molto difficile? Sì, secondo noi sì, però vabbè dai, abbiamo fatto Com'è andata? Eh dai, di scritto Ecco, è arrivato un altro vostro compagno, com'è andato l'esame? Bene, dai, non ci si può lamentare Come ti senti adesso? Libero, ancora no perché c'è l'orale, però per adesso, per un po' di tempo sì Ok, siete contenti, progetti per il futuro? Allora, io penso che prenderò una strada completamente diversa da questa qua Quindi, però sì, già ho dei progetti in testa e penso di seguire quelli Tu? Io e lui andiamo a fare l'università insieme, scienze motori A Urbino Giurisprudenza a Urbino, sempre Sono stati due giorni un po' duri, però comunque la vita ci riserva altre prove molto più forti, molto più determinanti Ieri è andata bene, oggi non mi esprimo Eravate tantissime scuole tutte qua oggi, radunate qua Però vedo che chiunque è uscito, nessuno proprio che è uscito ha detto sì è andata bene, no Perché? Perché ci vogliamo rassicurare tra di noi Aspettative? Non lo so, già un 12 comunque non sarebbe male su 20 È un bel 6, pulito pulito, però comunque sono aspettative molto alte Che esame è uscito oggi? È uscito il bilancio testo di economia aziendale con i dati a scelta Poi c'erano dei vincoli quindi per quanto riguarda l'anno 2000, il primo anno È insomma un compito sempre impegnativo più i due punti a scelta e ci ho dato da fare insomma Come è andata però alla fine? Beh dai, io il compito l'ho completato, gli esercizi a scelta li ho fatti Quindi sicuramente qualche errore scappa però dai L'importante è insomma essere arrivati fin qua e aver fatto il possibile come sempre Oggi riposo e poi giù sotto a preparare gli orali? Esatto, oggi riposo, stasera partita dell'Italia e poi da domani si riprende a studiare Perché a martedì ci sono gli orali, quindi ultimi sforzi e poi ci godiamo l'estate E le interviste sono state curate da Stefania Schiaroli Nuove tecnologie e nuove assunzioni per l'ospedale di Urbino È stato infatti installato un nuovo sistema polifunzionale per il reparto di diagnostica per immagini Ed il personale si è rinforzato da gennaio ad oggi con oltre 10 nuovi medici Nei prossimi mesi arriveranno un nuovo cardiologo, un anestesista e un oculista Invece per quanto riguarda la radiologia digitale si tratta di un investimento pari a 260 mila euro Che garantisce immagini migliori e una dose minore di radiazioni sui pazienti Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all'unanimità la legge statutaria contro i cambi di casacca Prima firmataria la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri Ieri è stata approvata in seconda approvazione una modifica allo statuto regionale Con la quale abbiamo cercato di disincentivare i famosi cambi di casacca Che purtroppo hanno flitto anche questa legislatura regionale Con diversi consiglieri che non solo hanno cambiato partito Ma addirittura sono passati dall'opposizione alla maggioranza Questo è veramente un dramma perché i cittadini esprimono un proprio voto Che puntualmente viene tradito Per cui abbiamo previsto che sia nelle commissioni consigliari Ma anche nell'ufficio di presidenza Il vicepresidente e il presidente debbano decadere Qualora decidessero di cambiare gruppo consigliare Alessia Morani, candidata del Partito Democratico alle ultime europee Nella circoscrizione Italia Centrale Ha depositato una richiesta di accesso agli atti Per visionare i verbali dell'ufficio elettorale centrale di Roma Dal momento della proclamazione degli eletti Morani, prima dei non eletti della circoscrizione Centro Per un pugno di voti Avrà 30 giorni di tempo per presentare ricorso E chiedere il riconteggio dei voti A più di 10 giorni dalle elezioni Denuncia Morani Ancora non so quanti voti abbiamo preso in totale Su come sono andate le operazioni di spoglio a Roma Molte cose devono essere chiarite Per questo, dopo la richiesta di accesso agli atti Valuto il ricorso E torniamo a parlare della discarica di riceci Perché l'assessore regionale Stefano Aguzzi Ha replicato alle dichiarazioni di ieri Di alcuni consiglieri dell'opposizione La regione ha precisato Aguzzi Ha fatto tutto quello che doveva fare E a prescindere dall'inemanazione Del vincolo paesaggistico La discarica non è autorizzabile Ho visto sulla stampa un articolo Portato avanti dal centro-sinistra Da esponenti del centro-sinistra Della provincia di Peso Lulvino Che attaccano la regione Perché tarderebbe nel porre un vincolo Nella zona di riceci Nel comune di Petriano Che impedirebbe la realizzazione di una discarica Intanto prendo atto con piacere Che il centro-sinistra di Peso Lulvino Che ha voluto quella discarica Attraverso il CDA di Marche Multiservizi Acquistando delle quote di una società E ha portato avanti quindi questa attività Fin dall'inizio Fa piacere vedere che oggi Da parte del centro-sinistra Ci sia un ripensamento Per quel che mi riguarda Sono sempre stato contrario Sia come assessore regionale Che come esponente di Forza Italia Perché quella discarica In provincia di Peso Lulvino Non serve Venendo invece alla questione del vincolo Il 12 di dicembre dello scorso anno Il comune di Petriano Ha richiesto alla regione Marche All'istituto dell'urbanistica Di intraprendere l'iter Per porre un vincolo paesaggistico Su quel territorio Noi ci siamo immediatamente attivati Abbiamo richiesto tutta una serie di parere Alle sovrintendenze Alle province Al comune A tutti gli enti interessati Il 13 di marzo Si è riunita la commissione E successivamente C'è stato anche un sopralluogo Ad inizio aprile Proprio per visionare il territorio Ad oggi devo dire Che l'iter Non si può ancora concludere Perché? Perché la provincia di Peso Lulvino Ha inviato con grande ritardo Il suo parere È arrivato il 15 di maggio Quindi neanche un mese fa Oltretutto è un parere molto vago Non dice sì al vincolo O no alla discarica Dice semplicemente Che quello è un territorio Molto interessante Che sulla quale Devo ancora avere un'attenzione Ad oggi Ancora non è arrivato Il parere più importante Che è quello della sovrintendenza Che non lo hanno ancora inviato L'ho sollecitato anche in queste ore Spero che arriverà presto Quindi la regione Marche Ha fatto tutto quanto Quello che doveva fare E sta facendo tutto quanto Quello che serve Per arrivare presto A portare avanti Una proposta Di vincolo Della zona di riceci Però nel frattempo Quella discarica Non si è potuta autorizzare E non si potrà autorizzare Perché fin dal luglio Dello scorso anno La regione Marche Ha scritto Alla provincia di Peso Lulvino Che è titolare Delle autorizzazioni Per quella discarica La regione Marche Il mio sessorato Ha scritto Dicendo che lì Non si può realizzare Una discarica Perché all'interno Dei 2000 metri Di distanza Dal centro abitato Quindi quella discarica Lì O vincolo O non vincolo La provincia Non la può autorizzare Perché la regione Marche Gli ha ribadito Che deve stare A 2000 metri Dal centro abitato E queste condizioni Non ci sono Quindi Se ci sarà il vincolo Tanto meglio Ma anche in assenza Di un potenziale vincolo Quella una discarica Non si può autorizzare La regione Marche È sempre stata contraria È stato un incontro Molto cordiale Quello tra il nuovo sindaco Di Fano Luca Serfilippi E Monsignor Andrea Andreozzi Vescovo Della diocesi Di Fano Fossombrone Cagli Pergola Il Vescovo Ha accolto il sindaco Nelle sale di rappresentanza Dell'Episcopio Mostrando anche Le principali opere Che sono custodite C'è stato poi Un momento di confronto Sulle principali aree Di collaborazione Tra comune e diocesi Tra i temi trattati È emersa in particolare L'attenzione alle povertà Nuove proposte Di collaborazione Si prospettano Sul piano Della valorizzazione Del patrimonio artistico E culturale A Torrette di Fano Un nuovo parcheggio Per 450 auto Al servizio Per tutta la stagione Balneare Per turisti E cittadini L'area si trova A fianco Del sottopasso ferroviario Vediamo Aperto a cittadini E turisti Dallo scorso fine settimana Il nuovo parcheggio Temporaneo Di Torrette a Fano È stato subito Preso d'assalto Complice La bella giornata di sole Numerosi bagnanti Si sono infatti Riversati sulla spiaggia Di una delle località Più belle di Fano L'area In gestione All'associazione Torrette Promotion Si trova Nei pressi Del sottopasso ferroviario A due passi Dal mare Raggiungibile A piedi Senza attraversare La nazionale Da circa due anni In collaborazione Con l'amministrazione Comunale Ci siamo messi Diciamo a lavorare Per poter Ottenere Questo che Ora vediamo La proprietà Della terra Che è la Signora Torroni È stata molto disponibile A darci incomodato D'uso Questo terreno Per poter Usarlo Come parcheggio Temporaneo Per l'estate È stata Una bella sinergia Che ci ha permesso Insieme Alla nostra associazione All'amministrazione Comunale Tutti i nostri Operatori turistici Che veramente Sono stati Molto disponibili Ci hanno dato Una grande mano Tutti Quindi ringrazio tutti Abbiamo potuto Con notevole sforzo Perché le cose Da fare Sono state Veramente tante Veramente Sia a livello Burocratico Sia a livello Anche Di manovare Come si vede qui Tutto quello Che è stato fatto Grazie ai volontari Il parcheggio Gratuito Per auto E moto Sarà usufruibile Fino alla fine Della stagione Balneare E per i prossimi Due anni 450 invece I posti Totali Disponibili Un risultato Molto importante Per Torrette Che arriva Dopo una serie Di interlocuzioni Sia con Gli operatori O di una serie Di necessità Avere Anche con Problemi di sicurezza Che sono nate Qui nella statale Perché di fatto A Torrette Mancava un parcheggio Vero come manca Tuttore Siamo riusciti a realizzarlo In via temporanea Per due anni Grazie a un rapporto Che è nato Tra Torroni E Torrette Promotion Che hanno concesso Quest'area C'era un problema Di permettere L'accesso A quest'area Perché c'era Soltanto Un passaggio Agricolo Ecco L'impegno vero Che c'è stato Anche da parte Del sottoscritto E dall'amministrazione È un'interlocuzione Aperta Con il Comitato Per l'Ordine Alla Sicurezza Pubblica Con ANAS Che dopo Una serie Di adempimenti Sono riusciti A concedere Ecco Questo passo Abbiamo dovuto Realizzare Una serie Di lavori Ecco È un parcheggio Che dovrà essere Confermato In futuro E sta nell'idea Dell'ordine Di una torrette Che deve fare Nuovi lavori Dopo Il lungomare Si dovrà procedere Con l'altra parte Del lungomare Dopo aver variato Il PRG In questa zona Si dovrà procedere Magari con un nuovo parcheggio Ecco Però intanto Abbiamo realizzato Questa area Temporanea Che per due anni Sarà a disposizione Di tutti coloro Che a torrette Vorranno venire al mare Vorranno venire a godere Di questa bella area Ecco Grazie E devo ringraziare ANAS Il Comitato per l'Ordine La Sicurezza Pubblica Che ci è stato a sentire Tutti Gli operatori di torrette Che si sono messi a disposizione Ovviamente La proprietà I torroni Che hanno dato a disposizione Questo terreno Ed ora Passiamo alle vostre Segnalazioni Partendo da queste fotografie Scattate in Piazza Marcolini Nel pieno centro storico Di Fano Lo spettatore scrive Questo è l'arredo Lasciato dopo L'inaugurazione Della piazza Non è bello Questa roba Come spiegato altre volte Ci vorrebbe più controllo O magari mettere delle telecamere Affinché queste cose Non succedano Poi Quello famoso ferro tagliato male È ancora lì Come potete vedere Molto pericoloso E ci vorrebbe Cinque minuti Un operatore del comune A venire qui E tagliarlo Cambiamo argomento Per parlare Di solidarietà Perché L'associazione LL Oltre l'ostacolo Ha organizzato Per venerdì 29 giugno Una cena Per raccogliere fondi A favore Dell'associazione Onfalos Autismo E famiglia Ce ne parla Cristiana Guerra Luca Lo scopo Dell'associazione LL Oltre l'ostacolo Non è solo Quello di sensibilizzare Alla disabilità Ma anche quello Di raccogliere fondi In mente Avete una grande iniziativa Quella del 29 di giugno Di che cosa si tratta? Il 29 giugno Ci sarà un evento Al circolo Tennis Fano Un evento Importante Perché Tutto il ricavato Verrà devoluto All'Onfalos L'Onfalos È l'associazione Che aiuta I ragazzi Malati di autismo Sarà Una serata Molto molto particolare Ci saranno Un sacco Di novità Novità Che interesseranno Ovviamente La nostra associazione Usciremo con un outfit Quindi con magliette Cappellini E polsini E soprattutto Ci sarà tanto divertimento Come avviene sempre Nelle nostre serate Quindi Venite numerosi Potete chiamare Il circolo Tennis Per la prenotazione Oppure contattarci Sui vari profili social Quindi Sia su Instagram Su Luca Lepri Official Sia su Facebook Sul profilo Luca Lepri Fino a quando è possibile Iscriversi? Le iscrizioni Si concludono Il 26 giugno Che è mercoledì Quindi ragazzi Datevi una mossa E prenotate Ok? E invece per il futuro Che cosa prevede La vostra associazione? Allora Per il futuro Ci saranno un sacco di cose Un sacco di cose belle Interessanti Quindi Restate Restate con noi E vi aggiorneremo Il prima possibile L'artista leggendaria Marina Abramovic Fa tappa A Pesaro Nei giorni scorsi A Villa Berloni Si è svolto Un interessante incontro Con la stampa A commentare L'evento Daniele Vimini Presidente Della Fondazione Pescheria Sicuramente Un bellissimo regalo Per questa capitale Italiana Della cultura In particolar modo Oltre a Questo momento Stampa C'è anche la possibilità Di vederla dal vivo Di ascoltarla dal vivo Assieme al regista E curatore Todd Ecker Con cui ha condiviso Il progetto The Life Ed è una bellissima opportunità Perché Dopo il successo Anche della Installazione In Pescheria Un'installazione Che ha una storia lunga Parte dal 2019 Ma è la prima volta Che viene riproposta Dopo la pandemia Quindi ancora più carica Di significati Legati alla presenza L'assenza La distanza Lo stesso ruolo Delle tecnologie Nel raccontare La vita Le esperienze E le relazioni E quindi È una grandissima opportunità Che Capitale Italiana Cultura Offre da Pesaro A tutta Italia In realtà E a tutto il mondo Ricordiamo che Prima di Pesaro Il debutto di Grenoble Poi Los Angeles Londra Sono state pochissime altre Forse solo queste Le occasioni In cui poter Fruire di questa Opportunità Oggi in presenza E soprattutto Anche come abbiamo Appena annunciato L'esperienza replicabile Avrei voluto Terminare oggi Al centro Artivisivo Pescheria Ma un po' Per il successo Un po' Anche per L'accordo E la disponibilità Di Marina Sarà possibile Di Tord Sarà possibile In Pescheria Fruire dell'esperienza Fino a tutta domenica Quindi insomma Tantissime altre Migliaia di Pesaresi Visitori Artisti Potranno Entrare in relazione Con Marina Abramo Per questa esposizione Che sicuramente Entrerà nella storia Della capitale E anche nel centro Artivisivo Pescheria Sabato Alla Rocca Malatestiana Di Fano Sitterà Il primo Dei tre concerti A cura Di tre Complessi Bandistici Del nostro Territorio Dell'orchestra Di strumenti A fiato Di Urbino I dettagli Nella prossima Intervista Quattro bande Insieme Per tre concerti E Valentino Si torna Ad ascoltare Buona musica Grazie ad un nuovo Progetto Quando è stato ideato? Concerto Band for One La banda Si fa in quattro È un progetto Nato Intorno al mese Di ottobre O novembre Per opera Dei maestri Di quattro bande Tra cui La nostra banda Di Fano Ed anche I presidenti Delle bande Per In occasione Di Pesaro Capitale Della cultura 2024 E che cosa Avete studiato Progettato Insieme? Beh Abbiamo studiato Di aggregarsi Insieme Perché la musica Aggrega Siccome riteniamo Che le bande Musicali Siano espressione Sì di tradizione Locale Di socialità Di volontariato Ma anche E soprattutto Espressione Di cultura Infatti molti giovani Ripongono speranze Nella musica Anche per un lavoro Futuro Molti bandisti Sono il serbatoio Di orchestre Musicisti Che tuttora Sono in auge Sono passati Per la banda Cittadina Quindi La musica Bandistica Fa parte Della cultura Saranno tre Le iniziative La prima Sabato 22 giugno Il primo concerto Dei tre Che si svolgeranno Fano Urbino E pesaro Vi aspettiamo Sabato 22 giugno Ore 21 e 15 Presso la rocca Malatestiana Dirigerà il maestro Daniele Rossi L'ingresso È libero I posti sono A sedere Liberi Quindi Vi aspettiamo Numerosi Perché vedere Suonare più di cento Bandisti insieme È una bella cosa È una bella realtà Io ringrazio Tutti gli inserzionisti Che ci hanno sostenuto E ringrazio Soprattutto Fano TV Che ci dà la possibilità Sempre Di poter esprimere I nostri I nostri eventi Gli altri due concerti Poi quando si terranno Sabato 6 luglio Ore 18 A Urbino Fortezza Alborno Martedì 16 luglio Ore 21 e 15 Piazza del Popolo A Pesaro Concludiamo qui Questa edizione Del telegiornale Grazie per averci seguito E buon proseguimento Di serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti